Chiedi alla politica, questo governo che è molto più verde? Io chiedo fondamentalmente di mettere da parte slogan, mettere da parte battaglie prettamente partitiche, siamo davvero molto stanchi. Noi vogliamo soltanto che il governo si prenda le responsabilità che non ha avuto negli anni passati, a prescindere dal governo che ci fosse, nessuno ha fatto niente su questo tema di davvero importante e necessario. Quindi chiediamo fondamentalmente di agire. Senti ma ti piace l'impostazione? Hanno parlato tanto di Green New Deal, di tu ci credi? Cosa farete? Veglierete? Noi sicuramente continueremo a renderci conto se effettivamente metteranno in piazza quello che dicono. Il Green New Deal può essere una proposta, però va fatto, va fatto con una mentalità diversa rispetto a quella che c'è stata in tutti questi anni. Cioè bassa produzione infinita in un mondo finito. Non possiamo continuare a immaginarli in questo senso. Quindi cominciamo a mettere da parte tutti i trattati tipo CETA, Mercosur, che in realtà vanno nella direzione esattamente opposta. Sì, ti lascio.